musica si dai beh miglietti, ma cosa dici da bo? ma cos'è? beh ma non sono tutti e non hanno solo l'idea ma hai vendoli in piazza, beh? ma no, non è spolmiche hai venduto in ticona del per me provincia dal cinque zembre in fine sabremet si ho capito, però, e ne bo? io ho fatto dal ristoratore nostro da una bottega da fogliare preciso, e per ogni chilo venduto Barilla, Chiesi e Fondazione Cari Parma i xonton di Biade scolta, che tanto al brod? eh no, parco lì e che darangero progetto non più soli di Parma facciamo squadra insieme a CMO e provincia dinamà a sostenere i personi più fragili e della nostra comunità